Non me la sarei aspettata un anno fa, ma non la sarei aspettata neanche un mese fa, o due anni fa, o dieci anni fa. Nel senso che per noi la Technicolor, quando dico noi, dico un certo numero di nomi, come Giuseppe Roturno, come Carlo Di Palma, come Luciano Ottoli, come Armando Nannuzzi, io stesso, personaggi che hanno dato la loro visione ai grandi capolori del cinema, non solo italiano, ma quello mondiale. L'hanno potuto fare anche grazie a un certo tipo di tecnologia, di creatività, dell'eccellenza di un laboratorio che aveva e ha ancora tuttora dei grandi personaggi sul piano tecnico e creativo. Pensate soltanto che nel momento in cui ho fatto l'Apocalypse Now, parliamo del 1975, si sviluppava il negativo che veniva dalle Filippine qui a Roma. Quando si è fatto Rezzi si è sviluppato non soltanto il negativo qui a Roma, ma si sono stampate le copie di tutto il mondo qui a Roma, in Technicolor di Roma. E così è stato per l'ultimo imperatore di Bertolucci e tutti i grandi film internazionali in cui mi sono trovato io a realizzare certe opere. Si poteva fare soltanto perché c'era la grandezza qualitativa, tecnologica e creativa di quel gruppo di personaggi che erano in Technicolor. Quello che mi dispiace è che in questa tragedia non ci sono soltanto, e è gravissimo, più o meno le 100 persone e famiglie del Technicolor di oggi, ma c'è la storia del cinema italiano e internazionale che viene un pochino perduta, non soltanto sul piano storico, industriale, creativo, ma ci sarà soltanto quello della nuova generazione. Io credo che noi siamo sempre il risultato di tutti quelli che ci hanno preceduto, particolarmente in questo periodo storico in cui c'è questo rinnovo tecnologico, e c'è una visione completamente diversa nel modo di realizzare immagini, non più sul piano analogico, pellicola, sviluppi, ma digitale e quindi anche protezioni. Però non è che la Technicolor manca il lavoro. No, questa è la cosa importante. Pensate che la Technicolor di Los Angeles, prendendo la brancia più importante, sia rinnovata negli anni e è la casa ancora più importante in questa nuova tecnologia moderna, cosa che stava avvenendo piano piano anche nella Technicolor di Roma. Cosa faranno i nostri giovani autori della fotografia scenografica, diciamo che? Non avranno più, sicuramente ci saranno laboratori che potranno fare al meglio tutti i progetti italiani. Noi siamo riusciti a esportare la qualità italiana nel mondo, grazie a questo tipo di laboratori e a questo tipo di personaggi. Se decade questo, il mio timore è che rimaniamo un pochino chiusi nel nostro giardinetto. Vediamo, sentiamo le voci dei lavoratori della Technicolor, i motivi di questa chiusura. Susanna Rotone. Perché i francesi vogliono chiudere la Technicolor? Secondo quello che sappiamo i lavoratori è perché questi piani di ristrutturazione aziendali ci sono stati due anni di perdite e prevedivano nel 2016 di andare in attivo. però hanno preferito risparmiare mettendo in liquidazione la Technicolor SPA. Secondo quello che vi risulta a voi, invece è un'azienda che andava bene dal punto di vista produttivo? È un'azienda molto viva, è un'azienda che ha molto mercato, siamo leader nel settore di post-produzione video-audio e abbiamo lavorato con i più grandi clienti e con le più grandi produzioni italiane. Che tipo di professionalità avete voi? Questa è una bella domanda, perché il laboratorio di Technicolor Roma ha più di 50 anni di storia e si sono create qui dentro delle professionalità, tutt'ora, tutt'oggi, abbiamo delle professionalità all'avanguardia, un tesoro per la cultura cinematografica italiana e è un bagaglio che è stato tramandato di generazione in generazione, anno dopo anno, a persone come posso essere anche io. Noi lavoriamo con i negativi originali e lavoriamo con i materiali che arrivano direttamente dal set e lavoriamo con film molto importanti come possono essere l'ultimo e grande bellezza, insomma, che sta con The Globe, quindi... ma ne sono tanti. C'è Vittorio Storaro, insomma, quattro volte premio Oscar, che viene da noi, insomma. La storia e la cultura del laboratorio è sulle pagine dei libri di storia, quindi non c'è bisogno di ripeterla. Le hanno dato, maestro, un premio Oscar in più, però questo la dice lunga su quanto la ammirino. Il punto è proprio questo, il valore di questo patrimonio immenso cinematografico. Che fine farà poi? Ancora sentiamo le voci di altri lavoratori della Tecnicolor e poi torniamo da lei. La Tecnicolor è un'azienda operante sul mercato dal 1957 e ha contribuito ad un innalzamento del livello culturale italiano attraverso la lavorazione di film di fama anche internazionale. Parliamo di C'era una volta in America, parliamo di Amarcord, di Nuovo Cinema Paradiso e di tutti i film western di Sergio Leone con le colonne sonore di Ennio Moricone per arrivare fino a film di ultima generazione come Comora, Sacro Gra e La Grande Bellezza. La Tecnicolor quindi è stato sempre il leader nella sviluppo e stampa delle pellicole cinematografiche fino a quando, ahimè, c'è stato il passaggio dalla pellicola alla digitalizzazione che ha portato alla contrazione di 166 posti di lavoro attraverso due procedure di ristrutturazione una iniziata a dicembre del 2010 e l'altra iniziata a dicembre del 2011. Quindi ad oggi la casa madre ci dice che nonostante tutti gli investimenti che sono stati fatti nel processo di passaggio alla digitalizzazione purtroppo non ci sono margini di reddittività per le nostre commesse e quindi ha intenzione di lasciare il mercato italiano. A parte del luogo che è storico diciamo, perché questo passaggio è stato calpestato da molti, insomma da Coppola, che Coppola ci mandava il negativo dall'estremo oriente dove girava Apocalipsi lo mandava in Italia, qui in Tecnicolo, 500.000 metri di negativo girato del film di Coppola per dare un esempio. Coppola ha fatto due o tre film qui da noi e dall'America in giro per il mondo non stando in Italia. Qui abbiamo inventato dei procedimenti che poi li abbiamo mandati all'estero, cioè abbiamo brevettato noi i procedimenti che poi all'estero ce li ha chiesto perché i registri glieli chiedevano, insomma. Il know-how e la tecnologia che è stata portata avanti in questi anni per tutta la cinematografia mondiale, la televisione, eccetera, gran parte è dovuta anche alla Tecnicolor. Noi chiediamo alle istituzioni innanzitutto di salvaguardare il patrimonio culturale della Tecnicolor, cioè i 50 anni di Tecnicolor, gli oltre i 50 anni di Tecnicolor hanno portato, oltre a professionalità, come hanno già detto i miei colleghi, anche a un patrimonio culturale, un patrimonio culturale che rischia di andare disperso completamente. Abbiamo ancora in casa più di 200.000 rulli originali che in questo modo andrebbero completamente dispersi o vuoi verso i proprietari dei diritti o verso altri lidi e sappiamo benissimo, in questo momento noi li abbiamo tutti e possiamo conservarli e diffonderli per la cultura italiana. Maestro Storaro, abbiamo visto le scene di Apocalypse Now 1979, Coppola, ed è forse il primo ingaggio di quelli grandi internazionali, insomma, ecco, e tra l'altro è il primo dei suoi tre Oscar, poi c'è stato Rez e poi c'è stato l'ultimo imperatore. È questo forse il film, diciamo, che le ha cambiato la vita? Ma indubbiamente, ecco, però c'è un punto fondamentale. Perché Coppola chiama Vittorio Storaro a, diciamo, a realizzare la visione luministica di un film come Apocalypse Now? Perché il film non è un film di guerra, come poi Francis mi ha detto per convincermi a farlo. Io all'inizio volevo anche rifiutarlo. Perché? Perché era un film sulle civilizzazioni, sul senso della civilizzazione, cioè di quanto una cultura sovrapponendosi su un'altra cultura fa un atto di violenza. Quindi aveva bisogno di una ideazione figurativa, luministica, diciamo, su un piano della simbologia, della luce, dei colori, degli elementi, al punto tale che si potesse, tramite le immagini, il tipo di luminosità o meno, dare questo tipo di sensazione emotiva. Io ho sempre pensato che l'illuminazione nel cinema, particolarmente, ha la stessa potenzialità che ha le note di un musicista o le parole di uno scrittore per dare un certo tipo di emozioni. Questo ci ho sempre creduto. Francis ha visto il conformista di Bernardo Bertoluzzi che ho realizzato, ha visto l'ultimo tango a Parigi, ha visto il Novecento. Cioè quel tipo di cultura italiana che noi abbiamo realizzato qui, in questo caso dentro la Tecnicolo, ha dato quel tipo di valori che sono stati il livello per cui Coppola chiama me per Apocalypse Now, Woody Halle chiama Carlo Di Palma per fare i suoi film, Stanley Kramer chiama Rotunno per fare i suoi film fuori, come poi ha fatto anche Popeye e compagnia, Peppino. Siamo stati tutti, diciamo, legati ad una qualità, un'eccellenza di cultura italiana, ma realizzata con tecnologie italiane. Clementi Clementino ricordava che ci sono anche delle invenzioni fatte in seno alla Tecnicolo, cioè il sistema Tecniccope è della Tecnicolo, ha fatto tutti i film non solo di Sergio Leone, ma di un certo cinema degli anni 70. Il sistema ENR è di Ernesto Novelli e Raimondo, senza quei sistemi che una volta ideati, quando ho fatto vedere al signor Warren Bitti per Rez un certo tipo di sistema per realizzare quel film, il sogno di tutti i miei colleghi era di andare a sviluppare nella Tecnicolo di Londra, che era l'eccellenza del momento, è venuto a Tecnicolo di Roma e sono state stampate tutte le colonne, i film mondiali, diciamo, per la prima volta nel mondo. È venuto con me il signor Novelli o il signor Carlo Labella ad Hollywood o a Londra per seguire la stampa dei film in quelle sedi, non è mai avvenuto, prima venivano gli americani da noi. Certo, io sono sincero, mi aspettavo certamente una cosa che io ho sempre pensato che c'è un qualcosa che fa parte della parola progresso che non si può fermare e lo possiamo accelerare o lo possiamo rallentare e quindi il cambio tra l'analogico e il digitale sta avvenendo nel mondo e giustamente deve avvenire anche in Italia e quindi immaginavo come un po' stava avvenendo già in Tecnicolo di Roma che c'era una trasformazione tecnologica e quindi probabilmente anche di contenimento di personaggi, eccetera, ma dell'alzamento della qualità. Faccio un caso molto semplice. Tre anni fa vengo chiamato da un regista, Majid Majidi, in Iran per far realizzare forse il più grande progetto che sono riuscito a fare nell'ultimo periodo della mia vita, creative e cinematografiche, pari quanto a Apocalypse Now, all'ultimo introdotto di Bertucci. Ci sta ancora lavorando? Ci sta ancora lavorando in quanto abbiamo fatto una preparazione di un anno in Iran, abbiamo fatto con tutta la tecnologia italiana un anno di realizzazione delle riprese in Iran, abbiamo sviluppato in Tecnicolo e con il credo di tutti anche che il film sarebbe stato completato in Tecnicolo. Nel momento in cui il Tecnicolo finisce a fine dicembre mi trovo che il completamento della post-produzione del laboratorio non potrò più farlo in questo laboratorio. Capisco, diciamo, non come scusante della società Tecnicolo stessa, che questo è un film abbastanza anomalo, ha avuto dei tempi talmente lunghi e ancora adesso è in fase di montaggio e non c'è una data di uscita del film per cui mi è stato detto, io ho chiamato il grande responsabile a Los Angeles per dire, ma io ho un contratto con voi, non soltanto la società, non soltanto un film come Maometto, che è fondamentale e importante, ma ci sono tanti film italiani. Il film è un film su Maometto? È un film sulla prima parte della vita di Maometto, dalla nascita fino all'infanzia, fino ai 12 anni, diciamo, quindi è una prima parte. Ma dico, ci sono tanti film italiani che sono dentro il laboratorio, non si può chiudere il laboratorio senza lasciare completare le operazioni. So che stanno completando con grande linea adesso le operazioni italiane, purtroppo l'operazione Maometto non potrà essere completata perché non c'è una data sulla quale mi è stato detto, Vittorio, possiamo tenere aperto un laboratorio se non abbiamo una data di definizione del loro montaggio, eccetera? Però stiamo parlando sicuramente di opere d'arte, forse bisognerebbe anche tenere questo presente. Siamo veramente in chiusura, abbiamo un minuto, o le volevo chiedere... Una cosa importantissima, lo bisogna dire. È vero la storia che... Dove andrà a finire la storia del cinema italiano e internazionale che è depositata dentro la Tecnicolo. So, ho parlato con il responsabile Tecnicolo in questo momento, Sergio Posso, mi è stato assicurato che per legge loro manderanno tre addirittura lettere a tutti quanti i detentori dei diritti in modo che possano ritirare il loro prodotto e riportarlo nelle loro teche o nelle loro archivi. scriveranno anche sui giornali per mettere in evidenza tutta quante la cosa. Però è vero questo. Ci sono tante ditte che purtroppo nel bene e nel male forse sono terminate. Ci sono tanti personaggi che sono passati a miglior vita. Ci saranno tante società di tanti progetti che purtroppo non si troveranno in grato di poter avere questi materiali nelle loro case, eccetera. Qual è la loro possibilità, quindi, di non perdere questa cosa? Io ho dato un suggerimento e spero lo stanno vagliando che tutto ciò che non è possibile riprendere direttamente da ogni singolo produttore vada nell'unico posto possibile per noi che venga curata la nostra storia e la nostra cultura, la Cineteca Nazionale di Roma. Grazie, grazie Vittorio Storaro. Io le volevo fare solo un'altra domanda. Mi risponda sì o no, perché abbiamo proprio dieci secondi. È una curiosità, ma è vero che a casa sua ogni stanza ha il nome di un film e soprattutto quante stanze ha allora la sua casa? Non sono solo tante, ma nel bene e nel male è vero perché da giovane con mia moglie abbiamo sempre pensato di avere una casa in campagna per avere un po' di giardino per i bambini e per i cani. All'inizio l'abbiamo potuto comprare molto piccola. Poi nel bene e nel male si è un po' ingrandita ma la casa si chiama Apocalypse Now però il salotto si chiama Rezze e la stanza da pranzo che lui fatta si chiama L'ultimo Imperatore e così via. Man mano, man mano, lavorando tutti condonati i vari imprendimenti è stato dato un nome a una singola stanza. Grazie, grazie. C'è un po' di storia nel cinema in tutta la casa. Grazie davvero, maestro Vittorio Storaro. Con un minuto di ritardo iniziamo il telegiornale qualche istante la lina alla regia. A te che vuoi regalarti qualcosa di speciale Al'Italia dedica un ristorante italiano a 10.000 metri d'altezza e una poltrona su cui fare grandi sogni. All'Italia, scegli come volare.